La terza guerra mondiale. Non sto parlando della situazione politica internazionale, ma di un film iraniano, Gianchi e Gianni Serron, dell'italiano Human Seyedi, presentato alla mossa del cinema 2022, nella sezione l'Orizona. Ha avuto critiche positive, adesso nelle sale iraniane, ma non sappiamo se uscirà mai in Italia, se verrà mai distribuito da noi. Noi, come Beerus, ve lo proponiamo domenica 7 maggio alle ore 21, in streaming gratis, in versione originale, poi sotto itali, in italiano. È una nostra esclusiva, la presentiamo a voi. Per partecipare, per vederlo, basta registrarsi nel link che trovate nel primo commento e potete vederlo gratuitamente. Chi volesse invece vederlo dopo, può abbonarsi al nostro canale YouTube. Grazie, vi aspetto.